ciao ragazzi oggi voglio mostrare questo calendario dell'avvento che mi è arrivato si sa che acquistando il calendario dell'avvento è sempre un acquisto a scatola chiusa e quindi io vi volevo mostrare in anteprima cosa c'è all'interno di questo calendario cosicché quando l'andrete acquistare comunque saranno delle cose che comunque apprezzerete comunque sia mancano sempre quasi due mesi a natale anche di meno e quindi di qua natale credo che comunque vi dimenticherete un po cosa c'è all'interno quindi diciamo andrete ad acquistare adesso prima che andranno poi sold out e quindi ve lo ritroverete poi per natale e adesso vi faccio vedere cosa c'è in ogni casellina vi dico subito che questo calendario lo potete trovare su amazon e vi lascio il link da poter acquistare qui sotto si tratta di un calendario comunque a molto particolare perché non è la solita scatolina con le 24 caselline e dentro troverete cioccolettini ma bensì troviamo degli orecchini dei pendenti degli anelli delle collane insomma tutto legato comunque al bijou quindi qualcosa davvero particolare per noi donne che non siamo l'avventura di un calendario dell'avvento ma che non si tratti comunque di make up ma di gioielli allora andiamo subito a vedere allora iniziamo dalla prima casellina già io sono curiosissima vediamo cosa c'è al suo interno o all'interno allora troviamo una frase scritta in inglese allora guardate cosa ho trovato nella prima casellina questa collana davvero bella color oro è lucidissimo poi al sole questo effetto serpentino davvero bella avanti con la casellina numero due eccola qua la cosa bella che dietro ogni casellina troviamo sempre una frase allora qua già vedo degli orecchini fantastici guardate qui questi orecchini bellissimi veramente sono fatti così dietro aspetta che metto a fuoco wow veramente belli si illuminano poi andiamo alla casellina numero 3 eccola qua armiamoci di pazienza perché sono 24 casellina ecco qua altri orecchini guardate che sono belli anche questi con le perline e poi c'è la perla centrale di color verde davvero belli pure così con questi dietro davvero belli poi il numero 4 vediamo dov'è dov'è eccolo qua questo di qua piccolissimo vediamo cosa c'è al suo interno numero 4 troviamo questa collanina con questo medaglione davvero carinissimo una collanina abbastanza lunga poi il numero 5 vediamo cosa c'è sia un po rotta però vabbè freghiamoci wow c'è questo bellissimo anello a catenina cosa vedete davvero davvero bello poi andiamo avanti al numero 6 eccolo qua questo abbastanza grande vediamo cosa c'è wow qua c'è qualcosa a tema natalizio ma sono bellissimi sono degli orecchini a ghirlanda guardate che carini no vabbè li adoro queste cose guardate che carine questi sono orecchini a forma di ghirlanda no vabbè ma io adoro con il fiocco davvero davvero graziosi allora poi procediamo alla casellina procediamo la casellina numero 7 eccola qua vediamo cosa c'è e troviamo un altro anello una linea con tante pallina davvero grazioso anche questo poi andiamo al numero 8 già ho visto vediamo cosa c'è qua un altro paio di orecchini wow questi di qua però a forma di stella marina aspetta che mette a fuoco guardate che bello no vabbè io adoro queste cose davvero davvero belli con il numero 9 vediamo wow qua un altro paio di orecchini però molto molto particolari guardate che carini la forma di catena pendente adoro questi orecchini così bene arrivate la casella numero 9 mi ero persa numero 10 eccolo qua vediamo cosa c'è un altro paio di orecchini oddio vediamo allora questi quali ho presi tutti in mano perché sono quattro orecchini tutti diversi io credo che siano dei piercing infatti sono tutti diversi tra di loro procediamo all'undicesimo vediamo cos'altro c'è qua un altro paio di orecchini a questo è simile a quello che abbiamo scartato mi pare il secondo come questi però è diverso non già lo sparoschino ma a questa linea qui davvero belli queste vecchini anche poi procediamo numero 12 dove sei eccolo qua piccolissimo numero 12 troviamo questa collanina con questo diamantino vabbè qua tutta da snodare ci sta essendo in questa scatola piccolissima anche questa davvero bella troviamo tutto sull'oro particolarmente sull'argento non troveremo niente vabbè vediamo magari ancora all'inizio numero 13 a santa lucia vediamo cosa possiamo mai trovarci troviamo questo paio d'orecchini a forma d'ancora però con le perline davvero bello anche questo poi numero 14 forse una collana si eccolo qua una collana particolare con questi nodini che ci sono lungo la collana davvero bello anche questa numero 15 eccolo qua un altro paio d'orecchini si però questi sono a cerchio un altro paio d'orecchini ecco di qua e numero 16 eccolo qua troviamo troviamo un anello wow questo di qua con questi intrecci davvero bello poi numero 17 eccolo qua oh mio dio degli orecchini particolari a forma di alberello no vabbè questi adoro guardate che sono graziosi no vabbè ma io ci uscirei con questi orecchini davvero belli simpatici introvabili per lo più davvero belli questi con la ghirlanda pure davvero molto belli poi numero 18 oddio vedo qualcosa a tema natalizio questi di qua invece sono le palline con il fiocco verde no vabbè ragazzi ma che cosa ci vogliamo dire a questi orecchini davvero davvero belli no ma sono troppo simpatici apriamo numero 19 qui non si sta capendo più niente ok ci siamo un altro paio d'orecchini eccoli qua anche questi a cerchio però con le perlina davvero belli poi numero 20 siamo quasi arrivati è finita ragazzi questo di qua credo che sia un anello semplicissimo poi anche finissimo non so cosa sia un anello credo non mi piace particolarmente poi andiamo avanti 21 21 troviamo no vabbè ma questo è bellissimo è una specie di serpente con gli svaroschini e poi si legano comunque si attaccano ai lobby con questi cerchietti veramente belli belli questi le adoro poi numero 22 22 troviamo altri orecchini diciamo che gli orecchini non mancheranno particolarmente ne abbiamo quantità industriali allora troviamo qua no ma questa è un'ape un'ape con la perlina di sotto carinissima anche questa poi siamo dal 22 passiamo al 23 no vabbè ragazzi numero 23 veramente io sono rimasta abbiamo le luci di natale qui allora sono questi orecchini a forma di luci di natale troverei un po' troppo per questi orecchini però dai davvero sono carini come idea sinceramente io non me li metterei questi va bene si fa per natale però le luci è un po' troppo ma vabbè ci sta ci sta l'attimo natalizio l'ultimo a casellina 24 finalmente siamo alla vigilia vediamo cosa troviamo un altro paio di orecchini ed è finito ecco di qua questi sono molto più grandi rispetto agli altri orecchini di perle rotondi e sono anche questi graziosissimi bene ragazzi diciamo che abbiamo scartato tutto il calendario dell'avvento e quindi abbiamo capito cosa possiamo trovare dentro questo calendario davvero carinissimo perché con 30 euro abbiamo diverse paio di orecchini collane e qualche anellino bracciale non ce n'era e comunque è davvero molto carino perché abbiamo 24 paia di bijou e adesso vi farò vedere poi le foto dettagliatamente vi lascio il link qui sotto se volete acquistare questo calendario su amazon e quindi questo è tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti.